ciao ragazzi allora oggi siamo qui su un nuovo videogioco e mo ve lo faccio vedere spero fatemi spostare la mia faccia ok allora non l'ho mai aperto quindi vediamo un attimo com'è ok non è male allora ok eccolo qui call of duty warzone caldera 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 boh ok ragazzi ci siamo è la prima volta ci giochiamo speriamo bene come va forza nemica in zona armi pronte ok allora ragazzi l'unica cosa sapete cos'è che se ci cremo alla prima partita è normale ovviamente eh ok eh vabbè raga ho capito eh ok ragazzi veramente un tutti contro tutti c'è il respawn pure mamma mia va vai aia la prima volta che ci gioco è normalissimo voi mi potete dire per favore cosa devo migliorare sotto nei commenti ok ok resti soltanto tu riposate tra poco si ricomincia vabbè ragazzi allora noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao